Sono Kiki e ti do il benvenuto sul canale. Nel video di oggi vedremo nel dettaglio due set Signature Blend di Chimera Colors. Sono due set che differiscono dalle scatole principali di Chimera perché sono composte da miscele di pigmenti e non da pigmenti puri. Se vuoi prima approfondire le caratteristiche che riguardano i colori Chimera delle scatole base e espansione 1 trovi il link qui sotto in descrizione. Questi due piccoli set sono composti da colori formulati e mescolati partendo dai colori Chimera dai due grandi maestri ai quali sono dedicati ovvero Danilo Cartacci e Mikhail Pisarsky. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Vediamo quindi i set nel dettaglio. Entrambi si presentano in piccole scatoline da 6 colori ognuno. L'estetica della confezione e delle boccette segue quella delle scatole base con alcune differenze per quanto riguarda etichette e tappi. Da bianchi nelle scatole base qui diventano neri così da essere ben riconoscibili. Come per i Chimera classici anche in questo caso si tratta di colori iperpigmentati e con la qualità di pigmento più fine sul mercato. Questo permette di usare pochissimo colore per grandi superfici rendendo la boccetta da 30 ml davvero duratura. Il prezzo è perfettamente in linea con la qualità dei colori. Inoltre è possibile acquistare anche i singoli colori come avviene per quelli della scatola base per rimpiazzare solo quelli esauriti. Cominciamo quindi con il set Mikhail Pisarsky, grandissimo pittore che negli ultimi 15 anni della sua carriera si è concentrato sullo studio del metallo non metallo e della sua resa in pittura. Per questo motivo il set che ha creato è concentrato proprio su questo. Il foglio esplicativo all'interno è dedicato nel dettaglio a capire ognuno dei colori e il loro funzionamento. Nello specifico quello di Pisarsky comprende colori perfetti per ricreare l'effetto del metallo non metallo e tutte le tonalità necessarie per creare volume. Ma non solo, dato che per un maggiore realismo vanno considerate anche le luci e riflessi secondari derivanti dall'ambiente circostante ecco che vengono inseriti colori per simulare il cielo così come la terra e la vegetazione circostanti. Tutti e tre questi colori si presentano in tonalità molto desaturate proprio perché i riflessi dei suddetti elementi vengono filtrati e per così dire ovattati dal colore grigio dell'armatura su cui si riflettono. Con un occhio molto attento le stesse miscele potrebbero essere mescolate al momento partendo dai colori chimera ma ovviamente questi precisi punti colore sono stati formulati da grandi maestri del settore che senza dubbio sono stati in grado di creare tonalità eccezionali. Al di là di questo esempio di utilizzo che da vita ha un risultato bellissimo questi colori funzionano in molti modi e occasioni. Primo fra tutti Sun Rake grazie all'incredibile luminosità appare realmente come un raggio di sole ed è in grado di aggiungere molta luce a tantissime tonalità. Il set Never Without invece attinge a piene mani da ciò che caratterizza la pittura di Danilo Cartacci ovvero il modellismo storico e i suoi eccezionali lavori in questo campo. È stato pensato per fornire dei colori passepartout molto versatili utili per una moltitudine di situazioni tanto basilari quanto indispensabili per la pittura. Entrambi i set sono composti da colori con tonalità veramente belle e in entrambi i casi perfette per il tema prescelto ma sarà comunque necessario prendersi un po' di tempo per capirli e comprenderle la giusta diluizione da usare anche se indubbiamente il fatto che si tratti di colori premiscelati e non pigmenti puri facilita di molto l'approccio. Il più iconico tra i colori compresi in questo set è sicuramente Cartacci Red che prende il nome proprio dalla magistrale abilità di Danilo Cartacci di valorizzare gli indumenti rossi. Questa tonalità è pensata per essere il perfetto base coat proprio per questi elementi. Silver Gray è un grigio freddo che se correttamente modificato con nero o altri colori fa da base perfetta per capelli grigi o tonalità molto usate in epoca napoleonica. Il golden brown è utile per raggiungere colori chiari come oro e giallo ma anche come ombra per certi bianchi caldi. Il kiwi brown è pensato anch'esso per dare maggiore brio a tessuti bianchi e neri per evitare di farli virare solo verso il grigio rispettivamente nelle luci per il nero e nelle ombre per il bianco. Caucasian skin tone come da nome è un eccellente punto di partenza per la carnagione caucasica da modificare e valorizzare con tonalità presenti in questo set come golden brown o cartacci red per creare le diverse tonalità presenti sulla pelle. Infine troviamo Samurai Green colore molto versatile che se modificato con talo brù per esempio raggiunge i colori del mare mentre se viene unito a bianco o giallo diventa la base perfetta per i tessuti orientali. La prima cosa che sicuramente mi ha colpito di questo set così come anche quello di Michal Prisarsky è l'estrema coprenza dei colori anche dei più chiari in grado di coprire in una sola passata anche direttamente sul nero. Questo dipende in larga parte dal fatto che come detto si tratta di miscele di pigmenti e non di pigmenti puri e quindi caratterizzati anche dalla presenza di bianco e nero e dato il fatto che il bianco in questione è quello chimera la coprenza perfetta è assicurata. In definitiva quindi sono due set a mio parere validissimi che garantiscono una buona integrazione ai set base ma che lavorano perfettamente anche da soli. Come detto bisogna prendersi il tempo di esplorarli ma l'approccio è sicuramente più facile rispetto ai pigmenti puri. E con questo si conclude anche il video di oggi come sempre spero che vi sia stato utile per capire se questi prodotti fanno al caso vostro. Se avete dubbi o domande e volete condividerli con la community vi ricordo che potete scriverli qui sotto nei commenti come anche condividere le vostre esperienze. Vi ricordo di dare un'occhiata alla descrizione per altri video e prodotti consigliati e vi do appuntamento al prossimo video ma fino ad allora siate creativi! Grazie a tutti!